Una seduta straordinaria vergognosa gestita da una triste maggioranza barcollante. Lo afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini, all'indomani della seduta del Consiglio Comunale, convocata per affrontare il tema della municipalizzata Teramo Ambiente. Allora, noi abbiamo chiesto degli impegni ben precisi all'amministrazione a mettere nero su bianco e quindi abbiamo depositato due ordini del giorno, che chiedevano delle cose ben precise, ossia il taglio del 20% della tariffa sui rifiuti imponendo appunto un taglio dei costi alla Team e una consultazione popolare o comunque un concorso pubblico per selezionare la nuova classe dirigente della Team. Questo ordine del giorno è stato prontamente bocciato dall'amministrazione che si rivela per quello che è. E soprattutto un'altra cosa assolutamente scandalosa dal nostro punto di vista è che lo stesso PD si è astenuto su questo ordine del giorno. Inoltre è stato bocciato anche l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Marroni che chiedeva una consultazione popolare sul destino della Teramo Ambiente, ossia se pubblica, privata o mista. Questo è il risultato di un Consiglio Comunale che ha fatto appunto vedere le reali intenzioni dell'amministrazione, ossia una totale mancanza di rispetto verso la cittadinanza. Evidentemente, conclude Berardini, a nessuno di questi signori interessa il taglio della tariffa per i cittadini teramani e una democrazia partecipativa. È stata la solita pantomima dell'amministrazione, le solite promesse vuote perché quando si va a votare un testo definitivo vedete come la maggioranza boccia e come la finta opposizione si astiene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.